buongiorno a tutti questo video è successivo al video della scelta di tipo di posto che diciamo ripetiamo è obbligatoria per salvare la domanda come obbligatorio è l'inserimento di almeno una preferenza nella sezione preferenze andiamo a chiudere la sezione scelta di tipo di posto e andiamo proprio ad aprire la sezione preferenze che è una sezione molto importante vedete che appunto come da ordinanza ministeriale numero 36 dell'uno marzo del 2023 si possono inserire al massimo 15 preferenze da questo tasto aggiungi preferenza però prima delle preferenze ricordiamo che le preferenze possono essere divise in preferenza puntuale cioè di scuola o preferenza sintetica che prevede la scelta di un distretto la scelta di un comune o la scelta di una provincia abbiamo che per le preferenze sintetiche ci sono delle disponibilità da poter flaggare e considerare valide vedete valida per le preferenze sintetiche dice la numero 38 disponibilità presso una scuola ospedaliera se si vuole insegnare a su una scuola ospedaliera anche senza aggiungere la preferenza puntuale ma solo sintetica di un comune bisogna flaggare questo questo indicatore qua questa opzione con la stessa cosa per la scuola carceraria queste è riferita solo alle preferenze sintetiche dunque ripeto distrettuali comunali o addirittura di un'intera provincia la stessa disponibilità può essere data per l'insegnamento nelle scuole serali dunque si flagga questo oppure per i licei europei e dunque si flagga questa l'aspirante può anche richiedere le cattedre orario esterne o nello stesso comune o anche tra comuni diversi è chiaro che se si vuole fare una cattedre orario solo sullo stesso comune si flagga questa altrimenti si flagga questa che contiene entrambe le opzioni sia nello stesso comune ma sia in comuni diversi non è possibile come vedete flaggarle entrambe perché questa la cattedre orario anche tra comuni diversi comprende di fatto anche la prima opzione cattedre orario nello stesso comune adesso si può passare ora togliamo questi flag perché diciamo abbiamo già spiegato il funzionamento di queste preferenze sintetiche per cui poi toccherà a ognuno di voi stabilire che tipo di disponibilità si vuole dare per aggiungere una preferenza si clicca su questo tasto dove c'è il più aggiungi preferenza ecco che si aprono dei delle sezioni compilabili che intanto dice in quale regione su quale regione voler da si possono al massimo esprimere 15 preferenze e per poter inserire la preferenza bisogna agire in questo si deve andare a cliccare su regione e dunque si sceglie per esempio la regione in cui si vuole individuare la preferenza per esempio scegliamo calabria scegliendo la calabria abbiamo le cinque province calabresi dobbiamo scegliere quella di nostro interesse per esempio reggio calabria a questo punto possiamo confermare la nostra scelta per scegliere la preferenza che ci verrà così elencata vedete qui abbiamo diverso tipo di preferenze allora intanto c'è quella dell'intera provincia che si può cliccare qui diciamo per essere inserita oppure dei distretti vedete abbiamo delle preferenze a codici sintetici però possiamo anche scegliere di trovare una scuola proprio puntuale per esempio se si vuole trovare una scuola puntuale si può utilizzare il motore di ricerca di tutte le scuole dunque andando a cliccare per codice su questo inserendo il codice si potrà indicare il trovare la scuola o anche per 9 per esempio se voglio il liceo scientifico leonardo da vinci mi darà facendo la ricerca i codici intanto di tutti i licei ed è di del comune di reggio calabria tra cui il codice del da vinci di reggio calabria ora che per me non è esprimibile perché la mia scuola di titolarità ma se volessi per esempio trasferirmi al liceo scientifico volta potrei cliccare qui e dunque aver selezionato diciamo la scuola di mio interesse di mio interesse e quindi aver dato la possibilità diciamo al sistema di aver aggiunto la preferenza da me richiesta e dunque ritrovarmi con il liceo scientifico volta già inserito a sistema poi potrei diciamo continuare ad aggiungere preferenze nella stessa maniera dunque scegliendo sempre la regione poi scegliendo la provincia e poi per esempio andando a scegliere dopo aver fatto conferma il codice di un comune oppure proprio il nome di un comune reggio calabria oppure nel caso mio siccome reggio calabria il mio comune di titolarità non posso esprimerlo bova marina posso tranquillamente trovare il codice di bova marina cliccare e dunque aver scelto aver confermato ecco che compare anche il codice di bova marina e così via posso scegliere diverse preferenze e importante dare ordine alle preferenze se oltre a muovermi diciamo nel mio comune in una scuola o in un altro comune della mia provincia volessi andare in un'altra regione per esempio fare un trasferimento in toscana e dunque scegliere la provincia di firenze e cliccare su firenze fare conferma io potrei per esempio decidere di andare al comune di firenze cliccare su firenze ecco che compare la edizione firenze dunque posto chiaramente scegliere l'ordine e il tipo il codice della provincia della descrizione l'ordine è molto importante perché la macchina si muoverà sull'ordine di preferenza scelta prima al liceo volta di reggio calabria poi nel comune di bova marina in terza istanza andrà in subordine cercherà su firenze a rivederci a tutti e grazie per l'attenzione grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti